È il primo giorno dell'anno e anche in questa giornata c'è chi lavora. Nelle città marchigiane il 1 gennaio chiusi i negozi e gran parte dell'attività, rimangono però aperti molti bar e ristoranti. E accanto a loro, fra chi ha lavorato in queste ore, ci sono i settori classici come quello sanitario, delle forze dell'ordine e dei trasporti. C'è fiducia per il 2024 appena cominciato. Fortunatamente lavoriamo perché avere un lavoro oggi è importante, quindi dai, con sacrificio ma lavoriamo perché tanto è il primo dell'anno per tutti. Speriamo un po' di pace e di serenità e dai, tutto qua. Cominciamo oggi a lavorare, sì esatto. Abbiamo fatto un buon 31, riapriamo adesso giusto per sistemare e poi chiuderemo di nuovo per andare a pranzo. Lavoriamo, c'è abbastanza movimento, turisti ce ne sono, fortunatamente c'è stato, anche ieri e oggi un po' di movimento c'è stato, quindi finché c'è bisogna prendere, insomma. È partito bene, anche oggi siamo abbastanza pieni, quindi dai, sono fiducioso, insomma, dai, una bella ripresa c'è stata dopo l'alluvione, pure qua, che ci ha colpito, quindi siamo contenti. E accanto al cappuccino c'è chi sceglie di iniziare il 2024 con un buon libro. Abbiamo effettivamente un buon flusso di persone, adesso è l'ora di pranzo, si sta un po' calmando, però giustamente chi è libero esce, fa un bel giro anche in libreria. Se c'è il proposito di leggersi un libro oggi si può fare. Non si fermano neppure i viaggi e il comparto turistico. Io sono una guida turistica e sto aspettando un gruppo che proviene dalla Spezia per visitare la cittadina di Fossombrone e poi ci sposteremo anche all'eremo di Fonte Avellana. Quindi un auguri a tutti, nuovamente di buon anno, buon 2024.